Salve a tutti, allora come già vi ha detto Walter, sono Palinuro, non viene dalla città, viene dal personaggio delle commedie greche Plautine, mi occupo dello sviluppo di Parrot, un sistema operativo per sicurezza informatica, attualmente ne sono il team leader, ma c'è un team internazionale abbastanza interessante che si occupa non solamente dello sviluppo del sistema, ma anche di ricerche in ciò che la sicurezza causa e comporta nella nostra società e come attraverso l'integrazione della sicurezza nei processi quotidiani che noi viviamo possiamo effettivamente rendere il mondo un po' più sicuro, almeno questa è la nostra speranza. Nel tempo libero cerco di contribuire ad altri progetti open source come Debian, Devon o Cain Forensics e nella vita per vivere faccio l'ECT Security Specialist, faccio consulente di sicurezza per aziende, quando non faccio il penetration tester o non faccio l'amministratore di sistema. Di cosa parleremo noi oggi? Parleremo un po' di tutti quelli che sono le ricadute dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite quotidiane, perché alcune cose sono estremamente divertenti. Altre volte alcune cose sono andate storte. Ovviamente non diremo solamente che l'intelligenza artificiale fa schifo e dobbiamo tenerla alla larga, ma andremo a capire quando le cose vanno storte, perché vanno storte e come si potrebbe correggere il tiro in determinati contesti. Questa foto è abbastanza famosa, viene da una delle decine di applicazioni per smartphone che sono state sviluppate per giocare ad esempio con il riconoscimento delle facce, prendere delle facce all'interno di una foto e invertirle, scambiarle. È un processo molto interessante che noi vediamo sia nella nostra vita di tutti i giorni che spesso in contesti politici. Quando noi effettivamente riusciamo a trovare un modo automatizzato per fare quello che altrimenti sarebbe un lunghissimo lavoro su Photoshop piuttosto che Gimp, le cose si fanno molto ma molto divertenti. Vorrei tenerla abbastanza a basso livello, non vorrei entrare troppo sul tecnico, quindi cercherò di andare veloce, cercherò di fare molto tale che anche mia madre possa capire un talk tecnico su come queste cose possano funzionare. Abbiamo delle facce, abbiamo delle facce all'interno di un'immagine e dobbiamo capire come innanzitutto riconoscerle. Riconosciamo determinati elementi chiave della faccia, come una bocca, un naso piuttosto che degli occhi, delineiamo un contorno, estraendo quell'incontorno che abbiamo ritagliato e sovrapponendolo su un'altra faccia abbiamo un risultato piuttosto grottesco sul quale possiamo lavorare in maniera automatizzata. Se noi prendiamo questa sorgente con la nostra faccia sovrapposta e la mettiamo su questa destinazione attraverso una maschera, un po' di tanti qualcuno ne parlerà in maniera più dettagliata, possiamo effettivamente ottenere un risultato finale abbastanza realistico. Come funziona? Andrò veloce, cercherò di sfiorare il lato tecnico, quindi non me ne vogliano i più esperti, probabilmente sbaglierò delle cose, ma è per renderla più comprensibile, più commestibile a tutti voi. In quello che ci fanno passare come il mondo delle intelligenze artificiali, ma che dentro a tantissime cose estremamente tecniche, estremamente complesse, sostanzialmente noi andiamo a prendere tanti input, tanti dati, tante informazioni, facciamo in modo tale che questi dati vengano processati per ottenere un output. Potrei prendere delle foto, fare in modo tale che dei layer che non andrò a approfondire, riescano a individuare alcuni pattern, alcuni elementi distintivi e andiamo a dare un peso a questi elementi distintivi. Troviamo una linea orizzontale, potrebbe essere un sopracciglio, ce la mettiamo da parte, troviamo un'altra linea orizzontale, potrebbe essere un altro sopracciglio, potremmo andare a riconoscere alcuni elementi chiavi che potrebbero distinguere un naso, ad esempio, e costruiamo un primo livello di dati acquisiti. Dopodiché facciamo un ulteriore livello dove incrociamo questi dati, la dimensione di quello che è probabilmente un sopracciglio, è compatibile con la dimensione di un altro sopracciglio? Ecco che questa è un'altra informazione utile. Il fatto che nella foto ci sia un elemento simile a una macchina, è influente, una macchina, un'automobile, è influente sul fatto che nella foto ci sia una faccia o meno? No, quindi andiamo a trovare degli elementi rilevanti per la nostra identificazione e degli elementi non rilevanti per la nostra identificazione di un dato. Sempre andando molto veloce, potremmo accennare a quelli che sono gli autoencoder nell'identificazione di immagini, sempre velocissimo. Se noi facciamo un lavoro come quello che abbiamo precedentemente visto sulle fotografie dei politici americani, abbiamo un problema, è una banale sovrapposizione di fotografie, come facciamo ad adottare, ad espandere questa tecnologia ad esempio per usarla in dei video? Se volessimo ad esempio prendere una foto di Obama, un video di io mentre parlo e far sì che Obama parli mimando le mie espressioni facciali, cosa manca come step? Encoder a decoder, nel contesto degli autoencoder per l'intelligenza artificiale applicata all'image vision e all'elaborazione di immagini, noi prendiamo dei dati in input, gli elementi della nostra foto e attraverso un processo di encoding otteniamo un livello intermedio, una descrizione vettoriale dei movimenti della faccia. Applico un decoder che ricostruisce una faccia sopra quei movimenti, sopra quei vettori, ottengo un'immagine finale. Questo solitamente viene usato in alcune tecnologie ad esempio per migliorare la qualità di video o la qualità di immagini. Prendo una foto più dettagliata, la metto sopra un video poco dettagliato, riesco in qualche modo a migliorare il risultato finale. Tecnologie del genere le possiamo trovare ad esempio in molti smartphone moderni, quando facciamo delle foto troppo belle per essere veri, ci sono processi di intelligenza artificiale, la banalizzo, che aiutano a migliorare l'immagine in determinati contesti. Se in casi abbastanza banali da dei numeri possiamo avere il loro valore, in casi un attimo un po' più complessi potremmo ad esempio individuare dei numeri in contesti molto disturbati, tecnologie di attacco, ci sono dei sistemi per risolvere i CAPTCHA. Avete presente i codici numerici che dovete digitare quando vi scrivete a dei servizi, ci sono dei metodi per bypassarli attraverso algoritmi di questo tipo. Google come ha reagito? Ha tolto il fatto di dover inserire dei numeri inseriti in maniera abbastanza disturbata e ha cominciato a mettere al lavoro il suo algoritmo di training per la guida autonoma. Non dobbiamo più inserire i numeri, dobbiamo identificare i semafori, dobbiamo identificare le colline, dobbiamo identificare gli stop, le strisce pedonali, le biciclette, i camion, gli autobus, le facciate dei negozi e così via. Stiamo contribuendo in quel modo sia a fare learning, a insegnare all'intelligenza artificiale, in questo caso di Google, a distinguere facce, oggetti e altre cose che verranno poi utilizzate, ad esempio nel settore automotive, sia a impedire a tanti bot, a tanti sistemi automatici che usano l'intelligenza artificiale, di bypassare questi meccanismi. Oggi è molto più difficile risolvere un CAPTCHA in maniera automatica. Rendiamola ancora più semplice. Come funziona un face swap? Abbiamo la faccia originale, abbiamo un encoder che ci genera quei famosi vettori, non sappiamo cosa sono ma non ci servono ai fini di questa presentazione. Con lo stesso decoder otteniamo la stessa immagine o uguale o migliorata. Se lo facciamo con due facce cosa succede? Avremo due facce migliorate, ma se prendiamo l'encoder associato a un'immagine e usiamo il decoder associato a un'altra immagine, cosa succede? Succede che i vettori di movimento, di espressione facciale della prima faccia verranno usati con la seconda faccia. Ecco che si compie la magia. Ecco che effettivamente io posso riuscire, invertendo l'encoder e decoder, a sovrapporre in maniera intelligente una faccia sopra un altro volto e mimare espressioni facciali piuttosto che mettere la faccia reale di Trump sopra il video di un sosia di Trump. Ci sono anche dei video su YouTube se li cercate molto divertenti. Vediamo un attimo quali sono i riscontri nella vita reale. Il primo reale impatto su larga scala che questa tecnologia ha avuto. Si basa tutto sulla regola 34 di internet. Qualsiasi cosa esiste avrà una versione pornografica della stessa prima o poi in rete. La regola 35 dice se ancora non esiste prima o poi esisterà. Infatti la prima reale applicazione di massa su questo tipo di tecnologie è stato, vi aspettavate qualcosa altro, è stato appunto l'adozione in video pornografici dove la faccia delle attrici veniva rimpiazzata con facce di persone comunissime per ragioni che andavano dal puro divertimento fino al ricatto. Ovviamente queste cose vanno avanti su larga scala là dove c'è un business. In questo caso il business c'era, hanno fatto milioni da questo tipo di ricatti. Il problema è che quando la fase di training di algoritmi del genere viene fatta abbastanza bene, diventa anche difficile trovare delle contromisure. In un video molto realistico, come facciamo noi a determinare se il video sia vero o falso? È un problema che affronteremo, ci sono delle soluzioni. Ad esempio in alcuni video, video fake applicati alla politica, Nicolas Cage è una delle figure dove questo tipo di algoritmi è stato più applicato quando poi è stato sdoganato in altri settori diversi della pornografia. Ci sono un sacco di video su YouTube dove effettivamente la faccia di Nicolas Cage compare davvero ovunque, proprio a livello di intelligenza artificiale, anche a livello accademico in alcune università, quando si parla di face swap, image vision applicata al riconoscimento facciale e al rimpiazzamento di volti dentro alcuni contenuti. Se non c'è Nicolas Cage, solitamente c'è qualcosa che non vale. Quali sono i riscontri sulla politica? Come facciamo noi a capire che quel video di Obama dentro Mr. Robot dove parla di Tyrell Wellick e del disastro raccontato nel film, non vi faccio altri spoiler, sia un fake? Perché c'è effettivamente, se lo vedete, la faccia di Obama, la voce di Obama che dice determinate cose contestuali al film. Come facciamo a distinguere invece alcuni video di fake news dove altri politici, italiani e non, dicono o fanno determinate cose. C'è una giornalista, non mi ricordo di quale notiziario statunitense, che viene filmata ubriaca in un locale, che era sul posto di lavoro ubriaca. In realtà era un video fake e riconoscere quel video, riconoscere quegli elementi che hanno determinato che la falsità del video è stata molto difficile. Alcune tecniche consistono in quelle che sono le differenze tra la persona reale e la persona che sta mimando, che sta dando vita alla marionetta. Solitamente ci sono algoritmi che usano la frequenza di battito degli occhi, che usano determinati atteggiamenti, i micromovimenti facciali, ci sono tecniche di riconoscimento molto avanzate. Ma è un po' come nel mondo della medicina, più si va avanti con la ricerca per combattere determinate malattie, più determinati patogeni si adattano a quel tipo di cure ed è un po' un guardia e ladri dove da un lato chi attacca fa passi avanti, chi difende deve stargli dietro. Quindi non esistono soluzioni universali. Ma perché deve essere un problema quello delle fake news? Le fake news non sono un fenomeno moderno, sono la cosa più antica del mondo, già dai tempi di Costantino dai Romanici sono le prime fake news. Cleopatra fu un'altra fake news, nel mondo del Medioevo è pieno. Per cui le fake news ci hanno accompagnato lungo tutta la storia dell'umanità, se vogliamo, della civiltà per come la intendiamo oggi. Il problema delle fake news però oggi con i strumenti di comunicazione di massa assume totalmente un altro tipo di proporzioni perché non cambiano le modalità, cambia lo strumento di trasmissione. Non esistono mica persone che credono che la terra sia piatta, eppure mancano le evidenze a sostegno del fatto che la terra sia piatta. Non ci sono mica le prove dell'esistenza dei rettiliani, ma in assenza di prove è pieno di gente convinta che esistono. Non esiste mica un ordine mondiale che ci controlla, una setta di ebrei che muove soldi e fa cose. Eppure la gente è talmente convinta che ci sia per delle ragioni molto specifiche che potete benissimo comprendere, ad esempio facendo uno studio di quali sono i processi conoscitivi, i processi con cui l'essere umano tende a selezionare e scartare informazioni utili da quelle non utili. Come funziona? Funziona banalmente che noi siamo talmente sovrastati da informazioni che tendiamo a selezionare solo quelle informazioni non che riteniamo vere, ma che soddisfano un nostro bias, che soddisfano un nostro pregiudizio. Se la notizia conferma dei nostri pregiudizi noi siamo molto più votati a crederci. Se invece smentisce qualcosa di cui siamo fermamente convinti abbiamo serie difficoltà. Come si traduce questo in un mercato in cui io ho il mio servizio e devo far sì che i miei utenti massimizzino il tempo spesso su quel servizio? Io Facebook come faccio a far sì che tu abbia sempre o il cellulare in mano o il bisogno di averlo in mano? Devo proporvi ciò che a voi piace. Rimuovendo dai vostri feed ciò che non vi appassiona, ciò che non vi piace, ciò che non vi coinvolge, termine chiave, io comincio a proporvi solamente quelle cose che vi piacciono, che vi coinvolgono, vi creo una bolla attorno di quello che per voi è il mondo ideale. Sono processi conoscitivi quanto tempo? Ma dai? Sono andato indietro. Ed effettivamente come fanno a ricostruire questo tipo di dati? Non voglio accavallarmi ad altri relatori, ce l'ha già detto Marcello, con davvero pochissimi like, io posso andare a costruire quelli che sono i 9000 elementi chiavi che possono indicizzare una persona, catalogare i suoi interessi e far sì che si possa costruire un profilo dettagliato degli interessi di quella persona. Siamo noi a dare quei dati, non in tutti i casi, vedremo quando non avviene, siamo noi a dire a Facebook cosa stiamo pensando e Facebook a processare quei dati. Noi consegniamo delle informazioni in mano a terzi per consentire a terzi di chiuderci in una bolla, chiuderci in uno specchio limitato della realtà che noi crediamo essere la realtà, dove ci sono solamente quei contenuti che ci piacciono e ignoriamo totalmente altre cose che sono fuori dalla nostra bolla. Ci sono problemi di sicurezza e di privacy che salterò, ma questo continuo tentativo di volerci coinvolgere, di volerci inglobare all'interno di sistemi per crearci il bisogno di usare quei sistemi, banalmente per monetizzarci perché internet non è gratis. Ci porta ovviamente a dei problemi, non solo di privacy ma anche proprio di condizionamento, lo vedremo dopo. Ho fatto un esperimento, sono andato su Facebook sulle impostazioni privacy e ho rimosso intanto tutti i miei interessi che Facebook pensava fossero relativi al mio profilo, ci ha azzeccato, ho tolto tutte le autorizzazioni a propormi pubblicità targetizzata, ho tolto tutte le autorizzazioni al riuso di mie informazioni, in pannelli diversi perché per disattivare queste cose non c'è un solo posto dove farlo e la user experience per farlo, chi si occupa magari di design, è fatta in modo tale da non farlo fare perché ci ho messo un pomeriggio e mezzo per fare questa azione, per riabilitarlo ci vuole un click. Sono anche andato a disattivare il riconoscimento facciale all'interno del motore di ricerca, del social network e la posizione geografica. Così, da che appena pensavo una cosa subito mi veniva proposta una soluzione, all'improvviso cambiano un po' le cose e le pubblicità impazziscono, mi arrivavano pubblicità fuori dalla mia bolla, le pubblicità che le persone che non ero io solitamente ricevevano ma che non notavano come strane perché effettivamente soddisfacevano quello che era il loro profilo psicologico. È stata una sensazione strana, innanzitutto buoni Amazon, chiunque mi conosce sappia che qualsiasi cosa sia un buono io lo odio, cioè io non voglio pagare pur pagando di meno, cioè se mi dite paghi meno se compri questa cosa, sì ma se non la compro spendo ancora meno. Ovviamente donne mature e ragazzine in calore cercano uomini su internet, pubblicità di risparmio batteria per accessori per fare paracadutismo, carina la macchinetta per anziani che ovviamente non ha alcuna utilità. La pubblicità su Facebook è targetizzata, non viene fatta una pubblicità unica per questo oggetto qua, viene fatta una pubblicità unica per chi non ha patente, come in questo caso, quindi con un messaggio personalizzato, viene fatta una pubblicità unica per chi magari ha una disabilità reale, magari un arto amputato, ci sarà una pubblicità dedicata a altri tipi di problemi. Ci fanno le pubblicità addosso, ci cuciono le pubblicità addosso. Facendo un esperimento del genere, disabilitando quella che è la targetizzazione, è interessante vedere come ci propongono determinate pubblicità. Ancora vestiario, guardate come sono vestito, ditemi se posso essere interessato a una pubblicità di questo tipo. Carte prepagate dove non è necessario conoscere l'italiano, un'altra pubblicità targetizzata, non per me. Ancora donne mature e questo è abbastanza interessante perché è uno dei tanti giochi che gira su internet, perché alcune informazioni si possono ottenere dalle nostre interazioni. Uno, come forzo l'utente a fare interazioni che normalmente non fa? Due, io azienda terza, che non sono Facebook, che non sono Google, io player di terze parti, come faccio a ottenere informazioni da questi motori di ricerca? Non tutti i profili sono aperti. Quando io accetto una di queste applicazioni per fare il giochino, per vedere come sarò da vecchio, per sapere quando morirò, per sapere questo genere di informazioni, io autorizzo un'applicazione di terze parti ad accedere al mio profilo e a ottenere tutte quelle informazioni che altrimenti non avrei. Questo è uno dei casi tipici. Quali sono i danni? Parliamo dei danni. Non voglio essere estremista, non voglio essere catastrofico. Io amo il mondo dell'intelligenza artificiale e nel mondo della sicurezza, dove si sta davvero facendo una guerra di frontiera su questi temi, trovo che l'utilizzo di algoritmi di machine learning e così via stia realmente spingendo, sia il mondo dell'attacco che il mondo della difesa, a davvero confini inimmaginabili. Cambridge Analytica. Chi di voi la conosce? È stata citata già in qualche slide precedente, vado un po' più veloce. Il loro motto, questa è la loro pagina su Twitter, dice Data Driven Behavior Change. Come cambiare il comportamento delle persone utilizzando i loro dati. C'è come cambiare le opinioni, cambiare le idee, cambiare ciò che la gente ha in testa basandosi sulla collezione e l'analisi dei dati. È stata recentemente, ma non troppo recentemente, coinvolta in uno scandalo perché Facebook aveva autorizzato Cambridge Analytica sotto banco ad accedere a informazioni sensibili, riservate. Queste informazioni sono state usate, niente poco di meno che si dice per manipolare la votazione in Gran Bretagna per la Brexit e c'è conferma per manipolare le elezioni negli Stati Uniti che hanno portato all'elezione di Trump. Tant'è vero che Mark Zuckerberg è stato chiamato a testimoniare, mi pare in congresso, gli stessi dirigenti di Cambridge Analytica, se cercate su YouTube, ci sono i loro interventi in cui vengono sentiti. La cosa interessante è che il modo in cui funzionava faceva uso dei nostri dati in maniera molto intelligente. Ci sono delle persone estremamente sensibili, estremamente non credulone in senso cattivo, ma con una certa sensibilità verso certi temi. Se io le bombardo con un milione di dollari al giorno in advertising con pubblicità mirata, io posso soleticare alcune parti del loro essere che conosco grazie alle loro interazioni, per cambiare alcune idee, per estremizzarle su alcuni temi, per desensibilizzarle su altre. È un fenomeno che noi in Italia abbiamo anche sperimentato. La gente credulona comincia tutto con un condividi se sei indignato e finisce con, mi dispiace dirlo, ma episodi di razzismo. Finisce con l'estremizzazione, con il successo delle estreme destre. Non voglio fare politica, vi voglio dire di come queste tecnologie si approva, che siano state usate per ottenere determinati risultati. Cose che anni fa sarebbero state impensabili. Tutti noi abbiamo quello zio, quel nipote che, caspita, fino a qualche anno fa era una persona intelligente, adesso è completamente... non so se avete anche voi sperimentato questo fenomeno. Vi invito a fare un esperimento. Siamo nella Germania degli anni venti. Fermiamo una persona di religione palesemente ebraica e gli diciamo corri alla prima sinagoga e fatti cancellare dai registri perché sei in pericolo di vita. Una persona come minimo vi sputa in faccia, cioè è impensabile, si è orgogliosi delle proprie idee, delle proprie religioni, di ciò che si è. Perché dovremmo rinunciare ad esprimere ciò che siamo? Perché dovremmo chiudere il nostro profilo pubblico? Perché dovremmo... cioè, quale ne è il vantaggio? Ok, a essere complottisti siamo birravi tutti, ma in sostanza... dove andiamo a parare? La prima cosa che il regime nazista fece, quando fece le famose epurazioni di massa, non entro molto nei dettagli, fu prendere i registri delle sinagoge. Il primo... la prima forma di open data applicata a una strage di massa. Un dato pubblico delle persone che le persone non avevano idea potesse costargli la vita. Ma questo ovviamente è un elemento estremo, ok? Salito il palinuro sul palco ci dice che i nazisti uccisero gli ebrei, adesso dobbiamo toglierci tutti da Facebook? No. O forse sì. Questa è una cosa abbastanza moderna. L'iPhone si ritiene sia un prodotto molto più sicuro di uno smartphone Android. L'iPhone è lo strumento sicuro per eccellenza nelle nostre tasche. Eppure esce una notizia. Apple vende i dati dei protestanti nella rivolta di Hong Kong al governo cinese per portarlo dalla sua parte, per risolvere dei problemi che aveva con quel governo per portarlo dalla sua parte. Cioè un'azienda privata ha collezionato dei dati che per noi erano totalmente innocui per prendere dei protestanti politici che stavano facendo una protesta e venderli a un governo che li vuole sostanzialmente morti. Ma andiamo avanti. In questi paesi, ve li ho assunti qua, l'omosessualità è punita con la pena di morte. Attenzione, questa è una lista dove c'è la pena di morte ma in altri paesi non si può insegnare, non si può ricoprire una carica pubblica, si è discriminati al lavoro, la lista è molto lunga. Ma in questa top ten ovviamente si rischia la morte per legge. Da un social network secondo voi si può capire se una persona è omosessuale o meno? Vi dirò di più, in questi paesi uno dice se sei omosessuale caspita non scriverlo su Facebook. No, anche se non lo si scrive dai atteggiamenti, dal modo di camminare davanti a una telecamera di sorveglianza, dai propri consumi, da ciò che compriamo al supermercato con la tessera fedeltà si capisce l'orientamento sessuale o politico di una persona. Questa è ancora più interessante, Stati Uniti, perché vabbè in Medio Oriente ormai non ce ne frega più niente, siamo stati anestetizzati. In Medio Oriente che la gente muoia, c'è stata fatta una campagna per desensibilizzarci su quella zona del mondo, ma negli Stati Uniti negli Stati Uniti, almeno poco prima dell'Obamacare ce n'era la certezza, se si era predisposti a una determinata malattia, farsi l'assicurazione sanitaria, là non c'è l'assicurazione, la sanità pubblica, per quella malattia, che coprisse quella malattia, le cure relative a quella malattia, poteva essere dal difficile all'impossibile, cioè le assicurazioni sanitarie ce lo dice il founder della Georgia Medicare Plans, ci dice che si potrebbe non avere accesso all'assicurazione sanitaria se è evidente che noi potremmo avere un disagio fisico, una malattia da lì a breve, o che eventuali cure che derivino da problemi noti su di noi potrebbero determinare un costo troppo elevato. Cioè, dal mio interagire con i social network si capisce se io sono predisposto a determinate malattie e il sistema sanitario statunitense potrebbe non coprirmi le spese sanitarie per le malattie di cui io soffro. Benvenuti nel mondo dei big data e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per incrociare questi dati e ottenere un'informazione, un'informazione che potrebbe essere fatale. Ci sono episodi più carini, più divertenti. Questa è un'azienda, Target, che riceve una causa dal padre di una ragazza minorenne. Perché? Perché aveva ricevuto, la figlia, pubblicità sulla propria email dei coupon code per prodotti tipici per madre incinta. Cosa succede? L'azienda chiede scusa, il padre vince la causa, dopo pochi mesi si scopre che la figlia era veramente incinta. Dall'incrocio dei dati relativi ai suoi consumi si era capito cosa stava... il genitore cosa ha detto? Cioè, l'avete saputo prima noi di me, ha chiesto scusa, avete saputo prima voi di me. YouTube, che usa un algoritmo di machine learning per automatizzare la moderazione dei video per decidere quali devono essere demonetizzati e quali invece hanno accesso ai privilegi della pubblicità. Siccome gran parte delle persone che moderavano manualmente, che hanno fatto parte del bacino di training di quell'intelligenza artificiale venivano prevalentemente dal Medio Oriente per ragioni di costi, l'intelligenza artificiale, il modello che ne è derivato, ha ereditato il pregiudizio dei dati sorgenti. Le intelligenze artificiali possono avere pregiudizi, i nostri pregiudizi, i pregiudizi dei dati che gli arrivano in ingresso. Ancora pregiudizi, l'algoritmo che Amazon usava segretamente nei colloqui per capire chi assumere e chi no, discriminava le donne, di nuovo per un pregiudizio dei dati in ingresso, quindi dobbiamo fare molta attenzione che i dati in ingresso siano puliti. Cosa accade se questo tipo di cose venisse applicato alla giustizia? Il governo americano ha sperimentato l'intelligenza artificiale per determinare se una persona dovesse essere incarcerata o meno, per usare questo dato in concomitanza alle prove e al processo giudiziario normale. E se ci fossero dei bias? Perché lì questo tipo di tecnologie non vengono sviluppate da aziende aperte, non si basano su open data, il pubblico non può utilizzare, monitorare questo processo. Spesso sono aziende private che non dicono cosa fanno sotto il cofano. Esageriamo, perché è bello. Killer Robots. Quanto tempo ho? Killer Robots, abbiamo ovviamente dei problemi etici, mi hai rubato le immagini. È già successo che dei droni militari siano stati hackerati, si è sfruttato il dataset di partenza, sono stati sfruttati problemi a livello di tecnologie e di protocollo e così via. Nel mondo automotive hanno hackerato auto, ci viene già chiesto attraverso i sondaggi chi dovremmo uccidere in caso di situazioni strane, c'è chi vota, vorrebbero salvare le vecchiette, noi attualmente ci viene chiesto chi vorremmo che morisse in caso di incidente, noi stiamo insegnando alle auto del futuro chi dovranno o non dovranno uccidere, ci sono delle soluzioni, banalmente la decentralizzazione, riprendiamoci in mano i nostri dati, non evita il problema, ma ci pone in un'altra posizione. Il primo protocollo federato per eccellenza è la posta elettronica, io da Gmail posso inviare un messaggio a un utente libero, con Whatsapp non posso messaggiare con una persona su Telegram, ci sono social network aperti con protocolli federati che consentono a ognuno di diventare indipendente da multinazionali che ci controllano e usano questi dati in questo modo. Ci sono protocolli di comunicazione, questo addirittura è usato dal governo francese internamente perché è una delle soluzioni di messaggistica più sicure al mondo, ci sono alternative YouTube federate dove più utenti vedono un video più quel video diventa difficile da censurare, ci sono soluzioni dei pacchetti, dei bundle che ci offrono soluzioni integrate assieme, ci sono smartphone liberi, c'è la tecnologia, oggi ci sta davvero offrendo un'alternativa che noi ignoriamo perché non entra nella nostra bolla non entra nei nostri processi. E quindi vi lascio con questa bellissima frase, il primo passo non vi porta dove vuoi, ti toglie da dove sei. Grazie.